L'occupazione nel 2018 chiude con il segno più. A confermarlo sono le stime Istat diffuse a fine gennaio. Il tasso di occupazione registrato a dicembre 2018 sale al 58,8% più 0,1 punti percentuali rispetto a novembre, pari a 23.000 persone occupate in più, toccando così il livello massimo pre-crisi di aprile 2008, quando il dato era stato pari al 58,9%. E su base annua l'occupazione cresce dello 0,9%, pari a 202.000 persone in più al lavoro. L'espansione interessa sia uomini sia donne, lavoratori a termine e indipendenti, mentre continua il calo dei dipendenti permanenti. Nell'arco di un anno aumentano gli occupati tra i 15 e i 24 anni, più 36.000 e gli ultra 50 anni, più 300.000, mentre si registra una flessione fra i 25 e i 49 anni, meno 135.000. Al netto della componente demografica comunque si stima un segno positivo per la variazione occupazionale di tutte le classi di età. Buone notizie anche sul fronte della disoccupazione. Il tasso dei senza lavoro a dicembre si è attestato al 10,3%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.